Non desistiamo, non stanchiamoci di implorare dal cielo quella pace che gli uomini faticano a costruire in terra. Chiediamola insistentemente per il Medio Oriente e per il Libano. Questo caro Paese, tesoro di civiltà e di spiritualità, che è irradiato nei secoli saggezza e cultura, che testimonia un'esperienza unica di pacifica convivenza, non può essere lasciato in balia dalle sorte o di chi persegue senza scrupoli i propri interessi. Perché il Libano è un piccolo grande Paese, mai di più. È un messaggio universale di pace, di fratellanza che si leva dal Medio Oriente. Ci racconta il suo ricordo del viaggio apostolico di San Giovanni Paolo II in Libano nel 1997? Per raccontare la storia di questo viaggio, di questo evento, che ha avuto luogo da 25 anni in Libano, posso dire che è un bel ricordo, una visita molto bella, soprattutto per i giovani. Noi sappiamo bene fino a che punto il Papa Giovanni Paolo II ha amato i giovani. E lui ha detto nella Basilica della Madonna del Libano, molto famosa in Libano, ha detto ai giovani che è un bel orizzonte, per dire che i giovani hanno un futuro, possono cambiare tante cose in Libano. Mi ricordo bene della messa che lui ha fatto e la presenza di tutti i componenti del Libano, anche perché il Libano è un paese dove si trovano diverse confessioni e loro tutti erano presenti, erano presenti in questo evento molto meraviglioso. E poi ha lasciato un documento che può essere considerato come un punto di riferimento per Libano e per anche il popolo libanese. Posso dire che è un evento molto bello, un bel ricordo per tutti, non soltanto per i giovani, ma anche per le famiglie, per la Chiesa e per le altre religioni. Parliamo di quanto invece è avvenuto nella giornata di martedì 10 maggio nella Basilica di San Pietro? Abbiamo fatto un bel evento, anche una messa, la liturgia divina, sulla tomba del santo padre Giovanni Paolo II per ricordare questo evento dopo 25 anni. E allora abbiamo pregato, abbiamo invocato l'intercessione del papa Giovanni Paolo II perché abbiamo bisogno tanto, soprattutto in questo periodo così difficile in Libano, abbiamo bisogno dell'aiuto, dell'intercessione di questo santo perché lui amava tanto il Libano, ha sognato di un Libano bello. Per questo siamo venuti noi libanesi, non soltanto cristiani, anche qualche musulmano di altre religioni per assistere, perché era un evento che impiega tutti, tutti quanti. Siamo venuti per pregare e per riprendere, per rivalutare, se possiamo dire, quello che abbiamo preso di questo papa. Qual era invece il contesto politico, sociale ed economico del Libano durante la visita di San Giovanni Paolo II? Cominciamo il contesto politico, era un periodo un po' calmo, non ideale, ma c'era la guerra dal 1975, successivamente c'erano molti conflitti, guerre a diverse forme, ma nel tempo in cui il papa Giovanni Paolo II è arrivato c'era prima un po' di calma, non è un tempo modello, ideale, no, ma un tempo un po' di pausa, diciamo, perché sempre nel Libano dal 1975 sempre ci sono delle guerre di diversi tipi. E allora a livello politico non dimentichiamo che c'era l'occupazione della Siria del Libano e questo era un problema serio per il Libano a tutti i livelli, poi a livello economico era molto più buona che oggi, perché c'era lavoro, c'erano soldi tra le mani della gente, possono vivere tranquillamente, anche possono mettere a parte un po' di più nelle banche, invece oggi non c'è nessuna possibilità di conservare niente, perché tutto il denaro, tutti i soldi sono bloccati, allora adesso la situazione economica è molto terribile, rispetto al tempo di 1997, quando c'era un po', le cose circolano, si vivono in una maniera un po' tranquilla a livello economico e poi diciamo che dopo la guerra sempre c'è una prova di riprendere le cose, questo a livello economico, politico ho detto che c'era l'occupazione della Siria e sociale, posso dire che c'era un po' un problema sempre, la sicurezza non c'era bene, perché qualche volta abbiamo affrontato problemi tra i siriani e i cittadini lebanesi e dopo abbiamo lavorato fino all'anno 2000 per dire alla Siria con tutto il rispetto dell'altro paese, ma dobbiamo essere liberi, vivere liberi da ogni occupazione e a questo punto dopo il 1997 all'anno 2000 sono andati via, forse possiamo dire che anche è il frutto di questa visita del Papa Giovanni Paolo II Benedetta per dare un po' l'indipendenza al Libano, alla liberazione. Qual è il messaggio che questo viaggio trasmise? Il messaggio essenziale di Giovanni Paolo II era il vivere insieme, di aiutare i libanesi a essere coscienti dell'identità del Libano, l'identità del Libano consiste a parlare di una struttura di diverse confessioni, 18 confessioni, ci sono due religioni, musulmani e cristiani, all'interno di ogni religione ci sono confessioni, no? E allora questo per dire il Papa Giovanni Paolo II ha messo in rilievo questa dimensione del vivere insieme, ha rimesso in questione questo valore, ha invitato il popolo a vivere veramente tranquillamente in pace con gli altri, cristiani musulmani, cristiani tra di loro anche, e poi ha detto che Libano è un messaggio, è più che un paese, perché? Perché possiamo prendere questo paese come tipo di vivere insieme, non è una cosa ideale, no? Una cosa che si può essere vissuta, no? Vissuta nel senso che una volta sono libanesi, allora sono una persona aperta agli altri, c'è il rispetto reciproco dell'altro come tale, anche nella differenza, perché ci sono differenze appartenenze e tutto, allora nel fatto che sono libanesi devo essere aperto rispetto all'altro come tale. Questo che è l'obiettivo essenziale che il Papa Giovanni Paolo II ha voluto trasmettere, il vivere insieme e anche l'aspetto ecumenico all'interno del cristianesimo ha parlato anche del rapporto tra cristiani stessi, come devono anche vivere. Sempre in occasione di quel viaggio, il 10 maggio del 1997, San Giovanni Paolo II firmò l'esortazione apostolica, una speranza nuova per il Libano. Qual era il messaggio contenuto all'interno di questo documento? Potrei dire che questo documento dell'esortazione apostolica è un documento, una carta stradale, un punto di riferimento per il Libano, perché il fatto di leggere ogni passo, ogni capitolo di questo documento, possiamo vedere un insieme del modo di vivere in Libano, perché lui ha trattato diversi problemi, diverse questioni, per esempio ho detto il vivere insieme, il dialogo interreligioso, l'educazione dei giovani, anche quelli che affrontano l'università, anche ha parlato dei giovani che hanno un ruolo essenziale nel cambiare, perché possono assistere e partecipare alla vita economica, politica, loro hanno il potere di cambiare, perché? Perché sono giovani, possono essere attivi nella vita del paese, a tutti i livelli. Allora possiamo dire che anche se c'è la costruzione libanese, se c'è la legge, c'è tutto in Libano, ma abbiamo sempre bisogno di un punto di riferimento più attuale, abbiamo questo documento, anche finora possiamo dire che l'esortazione apostolica può essere una carta stradale, una linea guida per Libano, se a condizioni, se Libano vuole vivere in pace e vivere una vita tranquilla, perché c'è tutto dentro, il dialogo interreligioso, la pace, vivere insieme, come vivere la politica, come i responsabili devono lavorare per il bene comune, eccetera. Allora tutti i capitoli, tutti i problemi sono trattati, soprattutto che l'esortazione apostolica viene come risultato come risultato di un'indagine, perché prima c'era una preparazione, una preparazione con tutte le confessioni hanno collaborato per arrivare a questo documento. Certamente con la direttiva del Santo Padre Giovanni Paolo II, lui ha dato la linea guida e loro hanno fatto l'indagine, hanno fatto partecipare le confessioni per arrivare a questo libro. Allora il fatto che tutti hanno collaborato, allora tutti sono impiegati, perché sono d'accordo con questo documento e io potrei dire che è un documento di base. Diverse volte Papa Francesco ha parlato della possibilità di recarsi in viaggio apostolico in Libano, non ultimo durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio in Iraq. Quale valore avrebbe questa visita per il popolo libanese oggi? Certamente che il Papa Francesco, come sappiamo tutti, ha sempre lo scopo di andare verso tutto il mondo, soprattutto il linguaggio che lui ha creato, fratelli tutti, l'apertura, la reciprocità, ha tanti valori veramente essenziali. Noi abbiamo tanto bisogno della visita del Papa Francesco, soprattutto che lui ha detto sempre più di una volta che io tengo il Libano nel mio cuore, io prego per il Libano. E non dimentichiamo che ha mandato anche il segretario dello Stato, il Cardinale Pietro Parolin, quando c'era l'esplosione di Beirut. Questo significa tanto per noi, quanto è preoccupato per noi il Santo Padre, il Vaticano per essere vicino. E poi se mettiamo tutte le visite del Papa Francesco in Iraq e altri paesi arabi, questo significa che lui fa questa attenzione ai paesi del Medio Oriente. Abbiamo bisogno, ripeto, perché? Perché in Libano ci sono cristiani e c'è una cosa veramente questione di presenza, di esistenza, se c'è o non c'è. Adesso siamo in un pericolo se i cristiani rimangono oppure lasciano, anche i libanesi, perché tanti lasciano il Libano, soprattutto i giovani, perché abbiamo una situazione molto brutta. Tutto è bloccato, c'è la fame, c'è l'esplosione di Beirut che ha avuto risultati bruttissimi a livello dell'economia politica e stiamo attraversando un periodo molto critico. Per questo motivo abbiamo bisogno, io dico un po' la voce della gente, abbiamo bisogno della visita del Papa Francesco. Non so quando sarà questa visita, speriamo che sarà nel tempo vicino, in un tempo vicino, per ammigliorare e per ridare un po' la forza e la speranza al popolo libanese, perché siamo vivendo un tunnel, un momento buio, non si vede niente, non c'è un orizzonte, un futuro, soprattutto dei giovani che lasciano tutti il Libano. Quelli che sono rimasti in Libano non possono andare per questo motivo, sono costretti a rimanere nel paese, invece quelli che possono andare sono andati via. Per dire che la situazione adesso è diversa, ma una guerra fredda direi, una guerra economica enorme, il popolo non riesce più a continuare. Veramente non è una cosa dire per dire, è una cosa seria. Il popolo non riesce più a continuare la sua vita. Da qui, dal piazza San Pietro, vicino al Vaticano, speriamo e faccio un grido, un grido, ieri l'ho fatto nella mia omelia, un grido del popolo libanese che si rivolge al Papa Francesco dicendo aiutaci perché abbiamo bisogno di questo ruolo essenziale, il ruolo del Vaticano nel mondo, perché loro hanno il potere, hanno il potere di fare una diplomazia per poter sensibilizzare e responsabilizzare tutte le nazioni, tutti gli stati per aiutare questo povero Libano sofferente da 47 anni, non sono pochi, 47 anni è arrivato il tempo forse di cambiare.